Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brain Buster Wrestling Universe. Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay da BB2K? Assolutamente no, qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è precisamente? Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video. Un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fanni italiani che seguono o seguivano la disciplina e, perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago. Il commento ad esempio verrà aggiunto dopo che le varie clip saranno registrate e montate. Creeremo una serie tv su YouTube. Sembra utopia, ma potrebbe funzionare. Innovazione? Innovazione!